Il più cordiale buonasera da parte di Sandro Galantini e benvenuti a Check Up nella sua seconda serie. Check Up è un programma che si occupa di salute a 360 gradi, lo facciamo con gli specialisti del gruppo medico d'archivio, ma permettetemi, questa sera sono particolarmente contento di salutare la dottoressa Giorgia Di Felice, che è la direttrice sanitaria del Centro Diagnostico Interamnia di Teramo, nostra, diciamo così, compagna di viaggio per un anno intero. Buonasera Giorgia. Buonasera Sandro e ben rivista. Ben ritrovata e grazie per essere qui, sono veramente felice di stare con te carissima Giorgia. Giorgia, come ho detto, è la direttrice scientifica del Centro Diagnostico Interamnia, ma è medico radiologa. E quindi allora, come medico radiologo o radiologa, dirsi voglia, io faccio subito una domanda, una domanda che riguarda le radiografie e in modo particolare la radiografia al torace. Cara Giorgia, cos'è e quando si fa? Allora Sandro, la radiografia del torace, conosciuta più comunemente come lastra del torace, è un esame di imaging che, sfruttando una minima dose di radiazioni ionizzanti, ci dà una buona rappresentazione della cavità toracica e del suo contenuto, rappresentato massimamente dai polmoni e poi dal cuore. Si fa in tutte quelle condizioni in cui c'è una sintomatologia respiratoria, rappresentata massimamente dalla tosse, sia essa produttiva che stizzosa, dalla dispnea, dalla cosiddetta fame d'aria, l'affanno, dal dolore toracico, dalla febbre. Però nella pratica clinica la radiografia del torace è un esame di larghissimo impiego, tanto è vero che ci si sottopone a una lastra del torace anche quando si ha una patologia che riguarda un altro distretto corporeo, ma che può dare comunque un secondario interessamento dell'apparato respiratorio. Prendiamo per esempio le patologie reumatologiche. E quindi, mi alzi la palla per così dire, io devo fare la schiacciata, e quindi la radiografia, che comunemente si chiama RX, loro poi usano sempre queste sigle, a volte noi abbiamo difficoltà a capire a che cosa si riferiscono. RX sta per radiografia. E la radiografia in questo caso al torace che patologia riesce a vedere? Allora, nella nostra pratica clinica, nella nostra quotidianità, l'indicazione più frequente all'esecuzione di un RX del torace è l'infezione polmonare, cioè la polmonite. Quindi alla lastra si vede come un'area di addensamento parenchimale, cioè un'area più bianca del parenchima polmonare, che può essere singola, può riguardare più punti di uno stesso polmone, oppure può riguardare contemporaneamente ambedue i parenchimi polmonari. Altra patologia che vede è la pleurite, cioè la presenza anomala di liquido tra i due foglietti pleurici che rivestono il polmone. La pleurite che può essere anche di accompagnamento ad un'infezione polmonare. Spesso si possono vedere anche delle falde di pneumotorace, cioè la presenza di aria tra i due foglietti pleurici, che può essere conseguenziale ad una frattura costale, oppure nei soggetti giovani può essere anche un fatto totalmente spontaneo. E poi con la radiografia possono essere evidenziati le cosiddette opacità polmonari, i noduli, quelle che in gergo vengono definite le macchie polmonari, soprattutto se queste hanno delle dimensioni sufficientemente elevate, cioè pari ad un centimetro, e sono localizzate in delle aree accessibili alla radiografia. Ho capito, qui già incominciamo. Ascoltami Giorgia, invece la tomografia computerizzata quando si fa? Allora la TAC, o meglio ancora TC. TC o TAC, ecco sempre come RX TC. È un esame più impegnativo da un punto di vista biologico. È un esame di secondo livello che sfrutta un quantitativo più importante di radiazioni ionizzanti, ma che ci dà una diagnosi di certezza sul parenchima polmonare. E in genere si fa o in tutte quelle condizioni in cui noi ci troviamo di fronte in un paziente con una sintomatologia respiratoria, che però la radiografia non ci dà una giustificazione esaustiva alla clinica, oppure si fa quando vogliamo andare a studiare meglio le informazioni che ci dà la lastra. Con la TAC andiamo infatti ad evidenziare dei piccoli addensamenti parenchimali, quindi flogistici, che magari radiograficamente possono sfuggire. Però riusciamo ad evidenziare anche le infezioni delle piccole vie aeree, delle vie aeree distali, quelle cosiddette bronchioliti, alveoliti, che da un punto di vista di imaging non si manifestano come un addensamento parenchimale classico. Hanno un pattern in TAC abbastanza classico e abbastanza codificato, ma che di fatto sono delle infezioni polmonari e che come tali vengono curate con l'antibiotico e monitorate esclusivamente con la TAC. Inoltre in TAC si studiano tutte le patologie degenerative del polmone. Prendiamo per esempio l'enfisema, quindi questa graduale sostituzione del parenchima polmonare con delle bolle aeree, oppure andiamo a valutare e a studiare e a monitorare nel tempo tutte le patologie dell'interstizio polmonare, quindi una vastissima gamma di patologie che ha come esito comune la fibrosi polmonare, quindi la sostituzione del parenchima polmonare normo areato e normo funzionante con tracce di tessuto fibroso che vanno comunque ad inficiare gli scambi aerei. E poi con la TAC valutiamo i noduli polmonari. Infatti Sandro, nel corso di una refertazione TAC, il riscontro di un nodulo, o meglio di un micronodulo, quindi inferiore al centimetro, è quanto di più frequente e democratico possa esistere. Cioè, molto diffuso tu dici? I micronoduli sono diffusissimi e nella stragrande maggioranza dei casi sono multipli bilaterali e sono correlabili ad esiti, cioè a fatti infiammatori vecchi, per cui non hanno una valenza clinica. Un po' diverso è il discorso per i noduli con un diametro pari o superiore al centimetro, perché lì allora bisogna comunque sia cominciare a valutare anche la malignità o la benignità. E già con una TAC in bianco, cioè senza contrasto, noi ci riusciamo a fare un'idea della natura di quel nodulo. Per esempio, le calcificazioni intranodali di una lesione polmonare sono sempre sintomo di benignità, ci tranquillizzano. Andiamo a valutare comunque i margini del nodulo, i rapporti con la pleura, i rapporti con i vasi, con i bronchi, per cui già a un esame in bianco possiamo comunque sia farci un'idea del quadro che abbiamo di fronte. Ho capito. E allora a questo punto poi che cosa bisogna fare? Cioè si ricorre all'ATAC con il mezzo di contrasto sempre? Sì, no. Allora diciamo che il grosso della patologia polmonare si studia bene con un'ATAC senza contrasto. Senza contrasto. Un'ATAC in bianco. Ci sono però dei casi in cui il contrasto è richiesto. Quindi soprattutto quando noi abbiamo l'idea che dalla radiografia o dall'ATAC basale quel nodulo sia maligno, allora facciamo un contrasto, perché il contrasto comunque ci fa vedere se ci sono segni di infiltrazioni delle strutture bronchiali, vascolari, se c'è un interessamento anche degli infonoli toracici. Quindi in questo caso l'ATAC ha una valenza di una stadiazione loco-regionale e più delle volte viene stesa anche all'encefalo e all'addome. Un'altra indicazione all'esecuzione del contrasto è l'embolia polmonare che poi in questo caso è un angiotac perché va ad opacizzare le arterie polmonari e va quindi a studiarle sino alle diramazioni più profonde per vedere se sono presenti dei difetti di riempimento che possono quindi essere l'espressione, il segno indiretto di un piccolo embolo, di una piccola posizione trombotica che determina la sintomatologia. Ho capito, ho capito. Beh, insomma, vedete, c'è il medico radiologo quanto è importante, lo abbiamo sentito nella prima puntata con Claudio d'Archivolo, vediamo confermata l'importanza del medico radiologo adesso, con la nostra Giorgia Di Felice, e quindi in qualche maniera i radiologi sono, come dire, la prima linea che permette poi agli altri specialisti di intervenire. Dimmi se sbaglio. Assolutamente no. Quindi una volta, sapete, il medico radiologo era considerato un po' un medico nell'ombra e invece adesso il medico radiologo, come dire, è uscito fuori da questa ombra in luce meridiana e sappiamo, credo, sappiamo, CECAP aiuta anche a fare questo, sappiamo, abbiamo una maggiore consapevolezza sull'importanza del radiologo. Va bene. Giorgia, io ti ringrazio tantissimo. Se no, io le ringrazio te, Sandro, come sempre. Grazie di cuore, la nostra Giorgia Di Felice, lo ricordo, direttrice sanitario del Centro Diagnostico Interamnia di Teramo. Quanto a noi, ci vedremo alla prossima puntata di CECAP per sapere qualcosa di meglio e di più sull'aspetto importante che è quello che riguarda la nostra salute. Buonasera. Arrivederci. Grazie a tutti.